oggi per i casi del dottor petto abbiamo questa piccola jack russell che non è che ha fatto a botte con mike tyson ma semplicemente ha deciso che doveva mangiare un'ape tutta intera ed ecco il risultato adesso è gonfia come una zampogna poverina la andiamo a visitare per controllare che non abbia problemi alle vie respiratorie che non abbia problemi alla bocca e dopodiché gli faccio un farmaco che blocca lo shock anafilattico di cui non vi dirò il nome per evitare che ne abusiate la piccolina adesso sta bene ed è tornata alla normalità fatemi sapere nei commenti se anche il vostro cane è mai stato morso da un'ape ciao